Un certo numero di ordinanze di custodia cautelare già avrete saputo, io sono qua solo per segnalare, poi lascerò la coordinata alle indagini, sono qua solo per dire alcune cose con riferimento a questa attività. La prima è che non vedete oggi qui insieme a noi la collega Principato, procuratore aggiunto che è assente per vale, ma credo che in queste occasioni se ne parli poco, riguarda un ringraziamento che sento di dover rivolgere a nome dell'intero ufficio ai colleghi dell'ufficio G, sommersi di lavoro e sommersi anche dalle carte, dalle nostre richieste e riescono a farvi fronte in tempi, devo dire, ragionevoli. Ecco la parte di un giudice delle nostre richieste e la conferma.